Ecco una rassegna di eventi in programma a febbraio 2021 a Firenze e area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da Phil Florence, il sito ufficiale del turismo di città metropolitana e comune di Firenze. Tutti gli appuntamenti potrebbero essere soggetti a varia in base alla modifica delle normative per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Febbraio è il mese del carnevale che un po' tutti i comuni della città metropolitana cercheranno di vivere virtualmente non potendo dar vita ai tradizionali appuntamenti. All'Astra Assigna, ad esempio, il Teatro delle Arti propone un ricco calendario di eventi in streaming. Questo mese torna anche Pitti con le sue sfilate. Alla fortezza da basso l'evento sarà però limitato ai soli operatori di settore. Sarà comunque possibile vedere le collezioni sulla piattaforma Pitti Connect con le presentazioni in digitale di tutte le novità. Le mostre. In occasione del settecentenario della morte del sommo poeta, gli uffizi propongono una mostra virtuale dedicata al ciclo di 88 disegni noto come Dante Istoriato di Federico Zuccari. L'evento sarà disponibile per tutto l'anno dantesco. A Palazzo Vecchio la mostra Raffaello e Firenze in sala d'arme è prorogata e fruibile fino al 10 marzo. L'accesso è contingentato e la prenotazione fortemente consigliata. Fino al 18 luglio il Museo 900 esporrà i disegni e le sculture di Henry Moore. Terminerà invece a fine mese nel Palazzo Pretorio di Certaldo Alto la mostra che ospita un'accurata selezione di opere che i più grandi artisti italiani hanno realizzato ispirandosi alle novelle del Decamerone. A Vinci è visitabile al Museo Leonardiano Leonardo Anatomia dei disegni, esplorazione di cinque fra i più importanti disegni dell'artista riprodotti in versione digitale. Infine la musica, tutti gli appuntamenti con il Maggio musicale Fiorentino saranno visibili in streaming e prenotabili online sul sito www.maggiofiorentino.com www.maggiofiorentino.com